Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo sull'ampio sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi tante testimonianze che giungono anche a questo indirizzo di posta elettronica. Le stiamo raccogliendo e cominceremo anche a raccontarle un po' alla volta perché veramente sono tante. Tra tanti fatti che vengono raccontati ce n'è uno in particolare, lo vogliamo condividere in questa giornata che è la festa di San Francesco d'Assisi e oggi è anche una gioia per Padre Pio festeggiare con i suoi confratelli il serafico padre. Ma nel 1958 è successo qualcosa di straordinario anche per alcuni figli spirituali di Padre Pio. Che cosa successe? Ce lo racconta Leonardo Bruni nel suo libro Testimonianze Pratesi su Padre Pio che ci mette al corrente di tanti fatti. Ad esempio un racconto che arriva dal nipote di Fr. Daniele Natale, Bernardino Natale, ovvero Dino Natale, che salutiamo caramente. Lui racconta che la mamma da giovane era molto corteggiata. C'erano diversi pretendenti che la desideravano come sposa, però doveva seguire le usanze del tempo, aspettare il suo turno perché comunque era la sesta di sette figli. Le giravano intorno bei ragazzi, alcuni di famiglie importanti, anche di paesi limitrofi, ma lei tirava dritto in attesa del suo momento. Allora è arrivato il momento che doveva pensare al suo matrimonio, si era trovata nell'imbarazzo di scegliere tra molti pretendenti che chiedevano la sua mano. Allora non sapendo decidersi, ispirandosi così alla severa educazione ricevuta dai suoi genitori, pensò bene allora di rivolgersi a Padre Pio. Così andò a confessarsi da lui. Siamo nel 1957. Padre Pio, ascoltati, scrive da mia madre i nomi dei perrendenti, con un sorriso paterno le disse, figlia mia, questi non sono persone adatte a te, vai subito a casa tua e guarda sotto la porta. Troverai una lettera, una lettera di una persona che ti scrive da un paese vicino Firenze. È un bravo ragazzo, Dio vi benedica. A queste parole mia madre rimase sconvolta, sconcertata, aveva qualche simpatia sparsa tra i corteggiatori e Padre Pio la liquidava così in tal modo. Appena giunta a casa sotto la porta trovò una lettera con un timbro di un paese della provincia di Firenze, Prato. Indicava come mittente un certo Matteo, Natale. E chi era costui? Era un giovanotto di San Giovanni Rotondo, di qualche anno più grande di lei, che era emigrato a Prato per motivi di lavoro. Così affidandosi alle parole di Padre Pio, mia madre, dette inizio alla conoscenza epistolare di quel giovane, si incontrarono tre mesi dopo, si piacquero. Non era bello come gli altri, ma era un bravo ragazzo, va sul virgolettato Leonardo Bruni attraverso la testimonianza di Dino Natale. Aveva una famiglia molto religiosa, infatti un suo fratello più grande era un frate Cappuccino, molto vicino ed intimo a Padre Pio, ovvero Fra Daniele Natale. Nel paese tutti dicevano bene di quella famiglia. Sei mesi dopo si fidanzarono ufficialmente, proprio per l'occasione a San Giovanni Rotondo, proprio accompagnati dallo zio Fra Daniele. Arrivarono a casa sua anche altri personaggi come Beniamino Gigli, Carlo Campanini, che erano molto amici di Fra Daniele. Mia madre al ricordo di quel momento si emozionava sempre. Diceva che in quel giorno si ribellò il paese, in quanto dovettero anche chiudere la strada per quanta gente c'era. Nel paese, tra canti, balli e tanta gioia, non si era mai visto niente di simile tanto più la presenza di quelle celebrità. Poi il 4 ottobre del 1958 si sposarono in gran segreto da Padre Pio.